Signore e signori, autorità tutte, a inizio la cerimonia per la firma del protocollo d'intesa tra l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, UNCLI, e Lions Club International, distretto 108 YA, proposto dal Lions Club e Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa. Pur in presenza di un editorio non esclusivamente Lions, e per divulgare il lionismo nella società civile, vi prego di ascoltare in piedi gli scopi del lionismo. Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo, promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, prendere interesse attivo al benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità, unire i club con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso. Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serenità morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici ed anche nel comportamento in privato. Prego Comodi. Sono presenti le seguenti autorità lionistiche civili che vi prego di accomunare in un unico applauso al termine della mia elencazione e chiedo scusa anticipatamente per ogni eventuale omissione o inesattezza del tutto involontaria. Il governatore del distretto Lions 108YA, Franco Scarpino. Il sindaco della città di Catanzaro, professor Nicola Fiorita. Il segretario distrettuale Gaetano De Salvo. Il tesoriere distrettuale Francesco Iritano. La cerimoniera distrettuale Maria Bitonte. Il presidente della decima circoscrizione Giorgio De Philips. Il presidente della zona 23 Giuseppe Mario Veraldi. Il vice sindaco della città di Catanzaro, Giussi Iemma. Il vice cerimoniere distrettuale per la Calabria, Domenico Magro, nella persona di chi vi parla. Il presidente del Lions Club Catanzaro, Rupe Ventosa, Filippo Capellupo. Il presidente del Leo Club, sempre Rupe Ventosa, Vincenzo Maesano. Il presidente nazionale UMPRI, dottor Antonio Laspina. Prende la parola per un saluto il sindaco della città di Catanzaro, professor Nicola Fiorita. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il mio saluto brevissimo e prima di tutto un benvenuto a tutti in questa che è la bellissima sala concerti, come la chiamiamo noi, che è la sala più prestigiosa della Casa del Comune e quindi la sala di tutti i cittadini catanzanesi. Vi chiedo scusa se vi abbiamo fatto un pochino aspettare, ma un impegno abbastanza pressante in Regione non mi ha consentito di arrivare prima. È un impegno che riguardava il tema della depurazione e degli interventi che ci sono stati finanziati. Tema a cui so che siamo tutti molto sensibili perché poi riguarda la qualità del mare e quindi la nostra salute ed è un tema su cui siamo molto impegnati sin dall'inizio dell'amministrazione, se possibile ancora più dopo che la città di Catanzaro ha ricevuto il riconoscimento prestigioso grazie soprattutto all'attivismo del vice sindaco Iemma della bandiera blu che ci impegna diciamo ancora di più a mantenere degli standard e a raggiungere degli standard qualitativi così importanti. Ho fatto una corsa ma volevo esserci perché ed è l'unica cosa che tengo veramente a dire che siamo molto felici, molto orgogliosi che la stipula di un protocollo d'intesa così importante e così significativo avvenga nel luogo istituzionale più importante della città. Più importante c'è solo l'aula del Consiglio Comunale che però è interessata da lavori di riammodernamento e ristrutturazione molto importanti per cui siamo contenti che questa firma avvenga qui e l'unico modo vero per poter testimoniare la rilevanza di questo avvenimento e la gioia che ciò avvenga in questa sala era essere presenti. Per cui vi ringraziamo di questa opportunità che ci date, che date alla città di Catanzaro e direi che procediamo con il cerimoniale previsto. Permettetemi di dire che mi posso rilassare, lo posso dire questo? Ecco perché è chiaro che quando si ha a che fare con manifestazioni abbastanza preziosi, mi piace dire in questa maniera qual è quella di stamattina, c'è sempre un minimo di tensione che non ci abbandona mai, nonostante l'esperienza che abbiamo. Per cui permettetemi di rilassarmi nel senso vero della parola e di salutare tutti. E quando dico tutti, dall'onorevole Mario Tassone, dall'assessore Antonio Borelli, dagli amici presidenti delle Proloco che sono qui presenti, Valle Fiorita, Badolato, Amaroni, Amato, fatemi vedere gli altri dove sono, c'erano altri che... alzate la mano che non mi ricordo più, va bene, e altri Proloco, va bene, che sono i due presidenti provinciali tra l'altro di Reggio Calabria e di Catanzaro, che sono rispettivamente il presidente di Reggio Calabria e anche il presidente di Palmi, una cittadina bellissima e quest'anno poi lavoreremo per fare qualche cosa insieme, perché ci sarà la manifestazione quadriennale, giusto mi pare? E poi il presidente provinciale di Catanzaro che è anche presidente di Pentone. Quindi questo gruppo ha voluto essere presente insieme con gli amici della Proloco di Catanzaro perché questa è una giornata importante per noi. Io devo ringraziare il mio presidente Nino Laspina perché ha voluto assolutamente, ha scelto insieme con il governatore una giornata bellissima quale questa, poi qualcun altro saprà anche ricordare, perché io voglio solamente dire che oggi sono 31 anni della tragedia che abbiamo vissuto. È stato l'inizio di una grandissima tragedia di quegli anni per cui con la perdita di Falcone che ci ha insegnato tante cose, ma uno degli insegnamenti più importanti da allora è stato quello di non rimanere mai soli. Allora guarda caso questa giornata va proprio a pennello nel senso che noi non vogliamo rimanere soli, noi vogliamo collaborare e lavorare insieme per poter dare servizi alle comunità. E questa cosa che si fa a livello nazionale, la senatrice Vono è stata con noi in tante manifestazioni e ha lavorato con noi proprio per questi motivi. Bene, tante cose si fanno soprattutto per gente che noi non conosciamo. I servizi devono essere fatti per gente che noi non conosciamo perché è il service che conta, non il ringraziamento che domani dobbiamo aspettarci da parte di qualcuno. Allora questa è la mentalità delle Proloco, questa è la mentalità dei Lions e permettetemi di dire che i Leo, no me lo permettete questo, ecco, i Leo di Lupe Ventosa del nostro club, Mimmo e gli altri amici che sono presenti, sanno che hanno lavorato abbastanza, sono stati puntigliosi a partire dal Presidente, a partire da Ludovica e gli altri, perché si arrivasse oggi alla firma famosa di questo protocollo. Dico famoso perché voglio prendere una battuta, un discorso che ha fatto il nostro governatore in un'ultima riunione distrettuale quando disse il protocollo che andremo a firmare con l'UMPLI sarà il protocollo che sarà il fiore all'occhiello dei protocolli che abbiamo firmato. Grazie veramente per quello che fate e grazie veramente per quello che faremo in futuro. Bene, quindi adesso procediamo alla firma del protocollo. per cui sono letta, l'ho già sistemata. Poi ce ne chiamate uno in più a noi, che rimane quella di C? No, no, la finale, la finale. Sì, sì. Grazie. 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 Volevo aggiungere grazie anche al generale del Comune che qui con noi, perché questa licenza si intendeva. io ho sempre come una ragazza insieme con le ragazze del servizio civile sono uguali ti ringrazio per essere con noi e per il lavoro che fanno ogni giorno bene firmato il protocollo il protocollo visto che hanno firmato un applauso grazie bene firmato il protocollo allora prende la parola il presidente nazionale UMPRI, dottor Antonio Laspina bene, intanto buongiorno a tutti insomma, credo che questa giornata per noi può essere considerata come una bellissima giornata di avvio, di una collaborazione che insomma, Pippo ha voluto fortemente ci andiamo veramente avanti da un bel po' ma apre una diciamo una collaborazione che è ben più ampia rispetto a quello che può essere la singola firma che stiamo facendo oggi su questo protocollo un protocollo che comunque mette insieme due grandi organizzazioni perché i Lions e l'Unione Nazionale Prologo d'Italia che sicuramente hanno entrambe una valenza nel territorio molto forte possono consolidare meglio tutta una serie di iniziative che vengono realizzate in ogni parte d'Italia adesso l'abbiamo firmato per il Meridione ma questo è propedeutico per ampliarlo in tutta Italia quindi abbiamo fatto da apripista per questo che poi sarà una collaborazione nazionale perché l'interesse nostro è quello che in tutta Italia ci sia questa vicinanza ai Lions e che i Lions possono operare e lavorare insieme alle nostre realtà noi siamo presenti in 6.300 località operiamo nell'ambito turistico e sociale facciamo un lavoro anche di di grande spessore perché poi lavoriamo per salvaguardare il patrimonio culturale sia materiale che immateriale in questo senso proprio la diciamo che questo viene dopo una settimana molto intensa perché insieme a Pippo martedì scorsa abbiamo presentato proprio in Senato il nostro che che diciamo il primo centro per centro studi per il patrimonio culturale immateriale che vuole essere il contenitore unico per tutto quello che sarà una grande ricerca che abbiamo avuto in questo momento insomma realizzata e finanziata dal governo attraverso il ministero dei beni culturali che vuole mettere un po' ecco ordine in quello che è il grande patrimonio prima si parlava di palmi e palmi patrimonio unesco per quanto riguarda le macchine a spalla che noi abbiamo anche sostenuto per il riconoscimento ma ecco metteremo a sistema tutto il patrimonio culturale lo metteremo grazie a questi progetti in tutto questo sicuramente i Lions ci possono stare anche vicino ma noi saremo vicino ai Lions per tutta una serie di iniziative cosa che già accade perché in molte occasioni poi lavoriamo insieme cerchiamo di sviluppare progettualità a livello locale con questo protocollo credo che sanciamo ecco questa messa a sistema tra le due organizzazioni e creeremo delle opportunità di sviluppo in ogni territorio d'Italia quindi per me è un grande piacere tra l'altro ecco in questo momento Catanzaro credo che abbia una funzione molto forte nei nostri progetti perché veniamo appunto dalla presentazione ieri dei nostri ecodeis che abbiamo voluto nel parco dell'asila gli ecodeis sono il contenitore di tutte le attività che svolgiamo in ambito nazionale sull'ambiente sulla natura e per tre giorni 9, 10, 11 saremo insieme a tanti altri importanti relatori e organizzazioni a fare un po' di cultura del territorio di cultura dell'ambiente ma faremo anche promozione a questa bellissima realtà che è appunto il parco nazionale dell'asila che secondo me è una grande eccellenza nazionale che può rappresentare anche un grande volano di sviluppo turistico perché in Calabria non c'è solo il mare ma c'è una natura strepitosa che può essere sicuramente occasione di sviluppo turistico di opportunità per tanti giovani e qui mi rivolgo ai nostri volontari di servizio civile sfruttiamo queste occasioni perché può essere l'opportunità per mettersi in gioco l'opportunità per pensare che da soli ci possiamo costruire un futuro possiamo realizzare grandi progetti possiamo veramente qui realizzare i nostri sogni perché veramente vivere la Calabria vivere la Sila è un sogno da scoprire perché realmente ha delle eccellenze che ritengo forse vengano utilizzate non in modo totale lavoriamoci insieme e io mi auguro che anche attraverso questa collaborazione con i Lions ringrazio veramente di cuore il presidente che qua insomma con noi ha voluto questa questa importante firma che ripeto non è solo una firma ma è la volontà di stare insieme di organizzare momenti di grande rilevanza su tutto il territorio nazionale noi ci saremo ringrazio le prologo partecipanti ma soprattutto ringrazio Pippo per il suo impegno e tutte le prologo della Calabria grazie sindaco per averci ospitato e andiamo avanti così prende la parola e conclude la cerimonia il governatore del distretto Lions 108Y Franco Scarpino buongiorno a tutti caro sindaco caro presidente benvenuto in questa bellissima regione lo hai detto pure tu è una regione ricca ma nello stesso tempo povera ne abbiamo parlato poco fa una regione ricca per quello che hai letto mare montagne tutto quello che abbiamo però dal punto di vista reddituale lascia un po' a desiderare perché le nostre ricchezze non riescono ad esprimere il meglio quindi ecco perché le associazioni tipo i Lion Rotary la tua hanno questa finalità di compensare a volte le scelte non idonee non parlo di Catanzaro ovviamente il sindaco ci caccia fuori ma parlo di altre realtà dove noi svolgiamo ovviamente anche in alcune tematiche che sono in comune un'azione di compensazione ci stiamo quasi sostituendo che io definisco il terzo stato sociale dove ci sono tre belle aree lo stato il mercato gli enti non profit e noi finora abbiamo fatto la nostra parte però adesso visto e considerato che ci sono 18 crisi in parallelo in essere i problemi stanno aumentando e quindi la collettività ci chiede aiuto e quindi noi dobbiamo attraverso la nostra mission per quanto riguarda il lionismo soddisfare i bisogni della collettività risolvere problemi fare opere di solidarietà però non solo la solidarietà così come l'abbiamo interpretata in questi 105 anni di lionismo solidarietà che duri un giorno solidarietà in attività progettuali che possano dare un proprio sviluppo per il futuro e poi la cosa più importante e centriamo proprio l'argomento è quello della partecipazione all'arresti pubblica io quest'anno a Catanzaro parecchi di voi erano presenti ho voluto impostare l'anno di governatorato il nostro distretto è molto grande va quasi da Roma a Reggio Calabria 600 chilometri ogni volta che ci spostiamo questo è il mio staff al completo quindi ne sanno qualcosa il più del tempo lo passiamo seduti in macchina 3.600 soci in tutta Italia siamo 48.000 48.800 il lionismo è rappresentato in 210 stati con 1.500.000 persone insomma è una bellissima realtà e allora finora il lionismo si è occupato di solidarietà di risolvere e soddisfare i bisogni con le forze con le risorse che il lionismo ha a disposizione che abbiamo delle risorse che vanno dall'allazeta da libri professionisti impiegati insomma ci sono tutti quindi non è un'associazione di categoria allora abbiamo impostato l'anno sul quarto punto della nostra mission che è quella della partecipazione all'alesse pubblica quindi significa che non solo il lion ma anche il cittadino non deve collaborare deve interagire io su questo voglio essere molto preciso perché lo abbiamo fatto finora come senso di collaborazione con la regione con la provincia con tutti però collaborare significava fino al passato chiedere alla pubblica amministrazione quel logo del gratuito patrocinio morale che non ci serviva come immagine ovviamente ma non era questa la finalità e allora io ho detto dobbiamo cambiare strategie dobbiamo ristrutturare il nostro distretto e cercare di essere competitivi e interagire con la pubblica amministrazione ma non solo la pubblica amministrazione anche gli enti periferici ma anche quelli superiori e anche associazioni l'abbiamo dimostrato e abbiamo capito che quando noi come lion interagiamo facciamo di più quando lo facciamo da soli facciamo tanto quindi riesciamo a soddisfare bisogni però non lo facciamo con come dire efficace ed efficienza invece quando lo facciamo insieme con associazioni come unione anzi unione come come quella oggi che abbiamo sottoscritto il protocollo quando lo facciamo con i comuni i risultati si vedono e poco fa ad un'intervista raccontavo l'episodio perché ho voluto sperimentare prima di andare avanti su questa mia linea programmatica di interazione di cooperazione anche a essenza dell'articolo 55 e 56 della legge 117 del 2017 che parla di coprogrammazione e coprogettazione quindi significa alla pari alla pari fare tutto insieme quindi non ci deve essere un project manager come qualche sindaco dice sì però esistevano gli PPP i PPP significa piani programmati ovviamente non siamo allo stesso livello perché noi tutto quello che facciamo lo facciamo nel senso in modo gratuito e allora è un'esperienza questa di aver ristrutturato e quest'anno abbiamo firmato tantissimi protocolli con la regione con la protezione civile la regione Campania con tanti comuni importanti come Napoli Benevento Avellino su Catanzaro abbiamo anche interagito con la Casa del Sorriso quindi abbiamo fatto tante cose e allora io ho voluto sperimentare nel mese di ottobre se questo metodo poteva funzionare o meno ebbene con il sindaco di Napoli l'abbiamo messo in pratica e abbiamo fatto un due giorni nel mese di ottobre di dare come dire servizi specialistici visite specialistiche alla collettività quindi abbiamo preso la piazza più bella più grande del mezzogiorno che è Piazza Prebiscito e quindi non c'eravamo solo noi noi facevamo la nostra parte però vingeva quel principio di interazione quindi il comune faceva la propria parte gli ordini dei medici la propria parte l'università Federico II faceva la propria parte alla fine i risultati non li ho detti io ma li ha citati il sindaco di Napoli con l'assessore siamo arrivati a 50.000 prestazioni mediche in due giorni quindi questo significa che è un record assoluto cosa voglio dire voglio dire che quando noi interagiamo e ognuno di noi fa la propria parte e quindi c'è uno scambio di informazioni il presidente ha parlato dicendo che effettivamente ci vuole questa cooperazione e questo secondo me è uno dei protocolli più importanti perché abbiamo le stesse realtà le stesse problematiche noi abbiamo servizi che spaziano nelle aree globali internazionali della globalizzazione ma anche aree che spaziano dal turismo al patrimonio architettonico sui borghi sul PNRR quindi tantissime cose in comune allora sottoscrivere un protocollo chiamiamolo in questo modo ma più che altro un accordo di interazione con un'unione così importante che ha 6.200 se non sbaglio associazioni pro loco in tutta Italia e per noi è un grande onore un grande piacere perché sono convinto anche quando non ci sarò più io che ci saranno i miei colleghi per il prossimo anno sono convinto che così come abbiamo fatto con i comuni con voi riusciremo ad ottenere di più più tanti risultati perché siete proprio inseriti in un contesto territoriale quindi conoscete benissimo la realtà e i problemi quindi non solo individuate i bisogni ma lo possiamo anche risolverli insieme e questa è una cosa importante allora oggi aver sottoscritto proprio nella mia città la presenza dei sindaci di tanti amici che sono qui presenti per me è un grande piacere già la stampa è messa per quanto riguarda la comunicazione laionistica è già conoscenza di tutto e quindi sono veramente contento e ringrazio il sindaco per averci ospitato grazie dell'attenzione grazie 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 grazie